buongiorno a tutti amici amici di i am mister blogger mariani mi chiedo scusa se in questi giorni sono stato assente dai video ma sto curando una fastidiosa influenza mi sto imbottendo di tachiprine come fossero mentine ma ma ancora ci siamo ci vuole ancora qualche giorno e poi tornerò a pieno regime però però lo schifo la vergogna vista a torino non posso non parlarne soprattutto soprattutto mettere in risalto una cosa che nessuno nessuno ha detto fino adesso il problema il problema di fondo non è il var il problema di fondo è il protocollo var che è stato cambiato da un anno all'altro perché hanno detto che quest'anno il protocollo era diverso infatti è diverso perché negli scorsi anni se ti chiamavano al var eri tra virgolette obbligato ad andare cioè gli arbitri erano costretti ad andare a ripetere che cosa hanno fatto visto che quella cosa andava così tanto male così tanta schifo che 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 doveva essere per forza cambiata che l'unica cosa buona che che c'era in quel protocollo hanno rimesso la discrezionalità dell'arbitro cioè tu adesso lo puoi chiamare ma è lui che decide se andare oppure no per questo c'è il problema perché in quel caso lui dice ho deciso io e non ci vado perché il problema di fondo è che alcuni arbitri oltre a essere scarsi si si reputano pure presuntuosi almeno serra in mila spezia lo ribadisco angona ha fatto trasparire le emozioni ho sbagliato chiedo scusa ma alcuni arbitri non solo sbagliano ma re rete ritirano lo sbaglio per sé per se per seguito nell'errore continuano a perseguitare nell'errore continuano a reiterare l'errore anzi come ha fatto orsato in eventus roma dicono pure le motivazioni sbagliate a cazzo di cane dice ma se sbagli il rigore non è colpa mia perché il vantaggio il vantaggio non il vantaggio non c'è il rigore schifo schifo insomma insomma quella è la cosa più grave perché oltre a essere scarsi sono pure presuntuosi ma ribadisco il var l'abbiamo creato noi e questa è una cosa che dico con forza e con forza e e coraggio ma lo usano meglio in inghilterra e quella l'arabbia più grande perché il farlo abbiamo inventato noi siamo stati noi quelli che lo hanno creato svezzato testato e inserito ma lo usano meglio in inghilterra perché ribadisco quando vedete in inghilterra le decisioni sono più rapide non ci sono tempi morti e non si fanno queste figure di merda ma ribadisco il punto centrale è che è stata ripristinata la decisionalità dell'abito cioè lui che decide se andare oppure no quindi perché il protocollo è stato cambiato ma ribadisco quello che abbiamo visto ieri è veramente uno scandalo ti fa pensare male ti fa pensare che laia è pro inter e pro juve e non solo lo schifo di valeri non lo dice nessuno ma sampdoria juve è stato uno schifo di arbitraggio perché rabbio doveva andare a fare la doccia perché se prendi la palla con la mano è cartellino giallo punto fine 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 è stata semplificata apposta la regola per 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 semplificarla e l'endela meno complicata quindi quindi il rigore dato a ken che se lo guardate bene lui che già va per primo e poi va si viene montato da colli perché lui si ferma si indurisce si si contrae si blocca e quello gli va addosso è uno schifo quindi quindi di questo non ne ha parlato nessuno prima dello schifo di ranocchia e velotti perché quello è stato veramente un insulto un insulto è uno scandalo a cielo aperto ma ma ribadisco fa più specie è il bar il bar perché se se tu l'hai chiamato lui deve andare rimettiamo il il protocollo originale quello che rimbri quello che era all'inizio quello era tutto io ti chiamo tu devi andare ancora a vedere poi decidi tu ma devi obbligatoriamente andare perché prima era così all'inizio era così tu vai e poi decidi se tu vai a vedere e non me lo dai io mi sento meno fottere perché almeno sei andato a vederlo poi sei uno scemo e e non me lo dai però almeno mi lavi la faccia e lo vai a vedere e invece no loro non vanno a vedere succedono ste schifezze ste indignità queste vergogne perché quella di ieri è una vergogna perché il torino è stato defraudato di due punti il mio milan è stato martire in questo schifo di campionato perché eravamo tranquillamente in fuga verso verso il sogno se mi danno il gol con napoli se mi il gol con lo spezia se Udoge e fallo di mano e Alvaro stanno a dormire cioè quindi il milan è normale che si senta vi senta defraudato perché eravamo tranquillamente in fuga ma proprio tranquilli ci mancano almeno almeno sei punti almeno otto ma ci mancano i punti e lo schifo di bologna inter quando quando cazzo la vogliamo giocare quella è un'altra vergogna questo campionato tutto tutto tranne che regolare tutto tranne che regolare perché non c'è niente di regolare la sernitana mancano due punti in lotta salvezza la fiorentina mancano due partite in lotta in lotta champions al milan ma l'inter manca una partita c'è uno schifo solo in italia si vedono ste vergogne gli altri campionati sono 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 organizzati per perfettamente recuperi altre cose emergenza covid l'hanno gestita alla grande noi abbiamo fatto letteralmente schifo in tutti gli ambiti abbiamo fatto letteralmente cacare e questi sono i risultati in un campionato falsato non regolare dove la prima della classe deve aspettare a fine a fine aprile per sapere se 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 avrà il vantaggio regolare o no ma ma ci rendiamo conto e senza contare la sernitana che ha due partite in meno la fiorentina che ne ha ne ha uno o due mi sa da recuperare altre partite che non non tornano cioè la classifica con gli asterischi nel 2022 vergognatevi vergognatevi io ribadisco sono in condizioni disastrose però dovevo parlare dovevo vomitare schifo ma soprattutto precisare una cosa e ribadisco quello che ho sempre detto dare il var agli arbitri italiani come dare una ferraria che ha guidato solo le pande va schifo si va a chi andrà perché sono oltre a essere scarsi si reputano anche presuntuosi cioè sbagliano e ti dicono che hanno e ti argomentano l'errore come ha fatto orsato in juventus roma e quella è la cosa più grave che ribadisco serra in minaspezia almeno ha messo l'errore ho sbagliato scusate ho fatto schifo ma ho sbagliato almeno quello mi ha mi ha mi ha mi ha saputo mi è mi è mi ha piaciuto di più mi ha piaciuto di più ma vedere lo schifo di ieri dove l'arbitro guida che è veramente ieri forse era coperto forse ma ma il bar che non lo richiama perché sa che se lo richiama quello può non andare risultando io non vado perché così hanno detto il protocollo che c'è la discrezionalità la il potere decisionale all'arbitro una cosa c'era buona del bar ed era quella che lui doveva andare a vedere nel protocollo originale nel protocollo originale c'era scritto ti chiamo muovi il culo e vai a vedere poi decidi ma muovi il culo e vai a vedere quello è il protocollo originale io ti chiamo muovi il culo e vai a decidere poi decidi come cazzo vuoi però devi muovere il culo invece nel protocollo di adesso c'è scritto se lui lo chiami lui può decidere di non andare ho visto io e mi assumo io la responsabilità schifo 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 perché quella cosa buona c'era una cosa buona c'era e perciò dico che il bar lo abbiamo inventato noi ma lo usano meglio gli altri perché in inghilterra il protocollo non è cambiato a differenza nostra in inghilterra il protocollo varre lo stesso nell'inizio è quella la cosa più grave è quella la vergogna perché valerino schifo di arbitraggio di sampdoria juventus non ne ha parlato nessuno dove è nato un rigore che non c'è non ha spulso l'abio e la juventus la stanno trascinando in champions league un'altra volta la stanno trascinando nella lotta a scudetto allora se avete già deciso che inter e juventus deve arrivare primo o seconda ditelo che io non gioco più ciao a tutti